Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un piccolo video haul e vi mostrerò alcuni prodotti che ho ordinato sia su Aliexpress, che voi sapete che mi piace tantissimo, sia prodotti che ho acquistato a Napoli, un po' dappertutto. Allora, iniziamo subito con una cosa che ho acquistato a Napoli, che mi piace da impazzire, tra l'altro l'ho pagata veramente pochissimo, ed è questo ferro a ricciacapelli, fatto in questo modo qui, e mi piace molto, forse è un po' kitsch, per alcuni di voi lo sarà sicuramente, però mi piaceva molto il fatto che sia fucsia e che abbia tutti questi strass che io adoro. C'erano veramente tantissimi tipi di ferri a Napoli, l'ho trovato veramente di qualsiasi fattezza, grandezza, misura, insomma, fatte in tutti i modi, questo è fatto a cono, però c'era anche cilindrico normale, oppure c'era quello per fare le onde stile anni 20, insomma, c'era veramente l'imbarazzo della scelta, io non ho voluto esagerare, ne ho preso solamente uno. Ma se dovessi ricapitare comunque a Napoli, penso che acquisterò pure gli altri a poco a poco, perché mi piacciono veramente tantissimo, è perfetto, l'ho già usato tra l'altro. Arriccia immediatamente, in men che non si dica, io pensavo che ci volesse tantissimo tempo e che la piega non reggesse, in realtà non è assolutamente così, la piega regge e i capelli sono perfetti, quindi un prodotto veramente fantastico. La marca ora, Sonar, questa è la marca, chi di volo dovesse trovare, insomma, io lo consiglio. Poi, acquisti da Aliexpress. Ho acquistato questo pennello bellissimo per il viso. È molto grande, mi piace tanto, io pensavo di usarlo per la cipria o per quando si fa il baking, di levarlo così, oppure può essere utilizzato per la cipria, per il blush, insomma, utilizzatelo come volete. Le setole sono molto fitte e poi è morbidissimo. Un altro pennello che ho acquistato è questo qui, scusate ma io li tengo ancora nella bustina perché non li ho ancora utilizzati, è questo qui che ha una forma particolare, vedete? Questo è perfetto sia per il contouring da usare in questo modo qui, oppure se volete fare sia contouring che dare il colore, lo potete passare tranquillamente in questo modo qui o se preferite in questo modo qui. Ed è perfetto questo qui, è piccolissimo e la forma è veramente azzeccata, secondo me, perché si può utilizzare in diversi modi. Sempre, per quanto riguarda il trucco, ho comprato queste due spugnette, una rosa e una nera, ormai io impazzisco per le spugnette. Eccola qui, eccola nera identica. Le trovo perfette per sfumare il trucco, per tamponarlo, per rendere la pelle omogenea con il trucco, per non far vedere sbavature, sfumature, la grana del trucco perché a volte si nota ed è fastidioso. E per sfumare sono ottime. Ancora un pennello, questo qui, io impazzisco per i pennelli ultimamente. Questo è un pennello da fondotinta, è molto compatto, molto fitto, le settele sono corte ed è veramente molto molto semplice da utilizzare appunto con il fondotinta liquido. Un'altra qui è questo qui, ne vedete tre perché io uno l'ho già utilizzato, anzi lo sto utilizzando in questo momento. Sono i ricambi per gli spazzolini elettrici, con cui io mi sono trovata veramente benissimo, le ho pagate una festeria. Allora, se voi considerate che io vado al supermercato, ho saponi profumi, insomma queste catene qui, per comprare le ricariche è una scatola con due pezzi, quindi solo due ricariche, mi costa dai 9 agli 11 euro. Invece io ho trovato questa qui, l'ho pagata circa 2 euro, ce ne sono 4, ne ho comprata solo una perché volevo provare, mi sono trovata veramente molto bene. E li ricomprerò sicuramente. Visto che volevo creare le mie stecche decorative per il bagno, per il bagno della casa nuova, anche se non ero molto sicura, però ho voluto prendere questo colore qui. Sono dei glitter olografici che probabilmente non si vedranno dal vasetto, sono solo argentati. Sono olografici appunto, per creare la mia bacchetta di separazione, ecco, forse qua si vede meglio. Per separare il decoro dalla piastrella semplice, volevo proprio incorniciare, proprio per esaltare maggiormente il decoro. Siccome non riesco a trovare le bacchette così come le intendo io, così come le voglio io, ho deciso di comprare questi glitter appunto per provare a farmeli da sola. Ne proverò una. Se vedo che mi verrà bene, allora poi proseguirò con le altre, altrimenti lascerò perdere, farò montare le mattonelle in quel modo lì e basta. Un acquisto un po' particolare, se vogliamo, è questo, perché questo è un riparatore per capelli secchi. Dice che li fa anche ricrescere, io ora non l'ho provato, come vedete ancora sigillato. Se ne versa una minima quantità all'interno dello shampoo e si procede al lavaggio abituale. Ero molto incuriosita da questo prodotto, so che molti lo usano e ho detto, vabbè, perché non provarlo, tanto che mi costa. E soprattutto perché ho tagliato i capelli e non avendo più la lunghezza che avevo prima e me ne dispiaccio, non volevo utilizzare l'extension, non volevo montare l'extension. Ho detto, vediamo se questo prodotto funziona. E poi ho acquistato una corda per saltare, così avrò la mia corda personalissima. Anche quando andrò in palestra, perché è sempre un macello riuscire a trovare una corda libera o riuscire a trovare una corda che si adatti perfettamente a me, perché sono troppo lunghe, sono troppo corte, inciampo, non riesco a saltarci. E quindi, per evitare qualsiasi tipo di problema, me la sono comprata, così posso utilizzarla anche in casa, quando sono in casa, e continuare comunque i miei esercizi. Un altro acquisto che ho fatto è questa tinta di Too Faced. Bende Snap Vi faccio vedere il colore Eccola qui Mi piaceva molto, mi piace molto, non vedo l'ora di utilizzarla perché ancora non l'ho provata, non ho avuto l'occasione, per cui per il momento la rimetto nella sua scatorina e la metto a posto in attesa di essere utilizzata. Poi passiamo agli acquisti un po' più strani, strani perché Vi ricordate le mutande di Belen? Quelle che hanno fatto tanto scalpore per quel festival di Sanremo? O meglio, non le mutande. Il fatto che tutti pensassero che Belen non indossasse le mutande. Bene, in realtà non è così, perché comunque esistono delle mutande create appositamente per le donne di spettacolo, che hanno dei vestiti molto scollati, molto sgambati, molto aperti da qualsiasi parte ormai, però una donna non può certo andare nuda in giro. E quindi vi faccio vedere cosa indossava Belen quel giorno. Belen indossava queste mutande qua. Io ora le ho comprate ma non le indosserò mai, però volevo solo farle vedere. Sicuramente Belen le indossava color carne, ce ne sono veramente di tantissimi tipi, ci sono quelle di pizzo, ci sono quelle color nude, ci sono dei colori più svariati, insomma in commercio ce ne sono veramente tantissime e costano veramente pochissimo. Io questa qui l'ho pagata a 90 centesimi. Praticamente si infila, questa è la parte davanti, questa è la parte dietro e una volta indossata scompare completamente. Praticamente questa parte va a coprire la parte davanti, dopodiché dietro svanisce, non si vede più niente, questo non si vede e non dà neanche fastidio. Quindi questa è la mutanda di Belen. Poi ho acquistato anche dei laccetti per il reggiseno, in modo tale che se dovessi avere una maglietta o un vestito con uno scollo particolare, posso indossare questo qui, posso attaccare questo al reggiseno senza dover rinunciare a metterlo, perché vedete ci sono diversi modi da poter tracciare sia con questo disegno qua con la forfalla, oppure semplicemente con le spalline in questo modo qui. Le spalline sono queste qua. Un'altra cosa che ho comprato è questa qui, anche questa per lo stesso motivo. Queste sono delle spalline regolabili, vedete? Un'aggiunta praticamente. E questa qui fa in modo che il reggiseno si possa agganciare sotto al seno o dietro alla schiena, sempre per fare in modo che non si vedano le antestetiche spalline sotto i vestiti, insomma sotto i vestiti scollati, sotto i vestiti senza brettelle, senza maniche, in modo tale che tutto rimanga pulito ed elegante. E infine l'ultima cosa che ho acquistato sono queste mascherine al collagene per le labbra, che sono idratanti, nutrienti, rimpolpanti, dovrebbero fare tutto, io ne ho preso quattro, giusto per vedere come sono, si mettono su e dovrebbero aiutare insomma le labbra a rimanere morbide e idratate. Bene, io con questo video ho terminato, vi ringrazio veramente tantissimo di avermi guardato, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!